Cresci a fare esporto, mi da quasi iniziano, da presenti anni, da... Allora, un'altra questione è su sport e su come vivere, quindi stiamo cercando animare i nostri bambini, soprattutto su sport, su sport, su spingere e su come vivere. Allora, un'altra loro attività è appunto il sostegno e sempre riguardo i bambini che hanno difficoltà, quindi economica e sociale, abitamento di pietro con lo sport, il calcio, la ginastica e il gelicino. Allora, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, èวernico, sp Tat insane, un'altra cosa, un'altra cosa, insomma. Grazie.